Ciao, sono Laura, sono una studentessa del sesto anno di medicina e faccio parte del SISM, il Segretariato Italiano Studenti in Medicina. Il SISM è un'associazione di promozione sociale nata 50 anni fa con lo scopo di migliorare il più possibile la formazione degli studenti di medicina. Infatti, siamo convinti che la formazione degli studenti sia la base indispensabile per salvaguardare al meglio la salute di tutti noi. Crediamo che gli studenti non possano limitarsi ad avere un ruolo passivo nella loro formazione e nella società che li circonda, ma che debbano essere i primi attivisti per diffondere informazione ed educazione sanitaria, per sensibilizzarsi dal punto di vista etico e per voler crescere dal punto di vista intellettuale, professionale ed ontologico. Essere studenti di medicina per noi non vuol dire ricevere e immagazzinare delle nozioni, ma vuol dire imparare a sapere, saper fare e sapere essere dei professionisti della salute. Grazie alla collaborazione costante con l'università, tentiamo ogni giorno di rendere la nostra formazione veramente nostra e di diffondere nella popolazione una cultura della salute come bene primario. Proponiamo corsi di formazione per tutti gli studenti di area sanitaria, attività per bambini e ragazzi, webinar e conferenze. Ogni anno andiamo in giro per il mondo studenti dell'Insubria per conoscere nuove culture, per creare una rete internazionale con gli altri studenti di medicina e sperimentare sistemi sanitari a volte completamente diversi dal nostro. Ci autoformiamo su tematiche a noi care e per noi indispensabili per il background di un buon medico come i diritti umani, la salute pubblica e globale, la ricerca scientifica o la salute sessuale riproduttiva. Se volete saperne di più della nostra associazione potete seguirci su Instagram o Facebook. In bocca al lupo per il vostro futuro, speriamo di conoscervi presto!